E.A. Sport. It's in the game. E.A. Il suo gol. Ci sono metri a disposizione. Opportunità. Ed è l'ente. Si avvicina l'area. Occhio alla ripartenza. Parte il tiro. E c'è il gol. Palla in rete. Ha spazio per tirare. E il pallone entra. Ed è il gol. Occhio al suo movimento. Prova a andare. Buccon vuola miliardo. Il pallone in rete. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Rete. Rete in rete. Fritz. Gran panna per il. Prova a calciare. Ma la gran bella rete che concede adesso in vantaggio da gestire. Prova a sorprenderlo. È arrivato il gol che li porta avanti. Trova. Gol fondamentale che spenza nel finito della gara. Protege il pallone dall'assalto degli avversari. Lewandowski. E il pallone entra E le gomme Sous-titrage ST' 501